Ok ragazzi come al solito il black screen di Charlie che metto davanti a ogni video ormai mi scoccio a mettervi il dito danzante anche perché sto facendo questa registrazione in fretta e furia Un bel po' di iscritti mi stanno dicendo che non vi escono più i feed dei video quando li carico Per risolvere questo problema ci sono due modi Uno mettere mi piace alla pagina Facebook e attivare le notifiche perché ogni volta che carico un video lo scrivo anche là Quindi almeno se vi perdete un video potete andare su Facebook e vedere che l'ho caricato E anche la app per Chrome cioè un'estensione gratis per Chrome che praticamente quando pubblico un video vi arriva un pop up che vi avverte in tempo reale quindi lo potete sapere subito E trovate il link della pagina Facebook in descrizione e anche il download per questa estensione per Google Chrome Quindi scaricatevi perché altrimenti molti di voi non sanno che sono usciti i video Quindi detto questo faccio finire questo black screen e vi lascio al video A dopo Grazie a tutti Buon nuovo episodio di Diversi di Due Ciao a tutti Ciao a tutti Scusate per il lungo la lunga assenza ma purtroppo abbiamo avuto problemi perché molti ma molti impegni e oggi cosa andiamo a fare cosa andiamo a fare trivia trivia del colore verde tutti prima io prima di fare mi state fermi altrimenti si toglie il della trasporto ok allora trivia praticamente sono delle domande città delle domande ne dobbiamo entrare nella porta giusta che corrisponde alla risposta che cosa chiede la domanda esatto un attimo dov'è la domanda ecco la benci ok mai mai capito io so qual è a caso oddio oddio è andato a caso come ho fatto io ok allora dice aspetta azzetti un attimo dobbiamo dire qual è stato il primo nome aspetta aspetta no 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 se non sbaglio anti del project no ma no ma scusa clicchiamo qua dovremmo morire perfetto oddio che sta roba che sono oddio cosa è successo ecco le dobbiamo cliccare atti o non abbiamo riga dobbiamo fare parkour dobbiamo non è parkour è rotto un pezzo e sì l'ho capito perché tipo questa quarta ma non possiamo più scegliate in disegno tra la morte quello che ragazzo proverei minecraft bravo bravo troppo figo sta cosa qua mi sembra il più esatto era che game si era che il game però che cazzo il nome di me che cazzo di un altro all'anno del game times con su vai valori tembui e timbile sono d'accordo secondo me la cipolla cosa è successo dove siamo finiti come che si non era ammazzano ammazzano deve morire ma non dobbiamo stare a te cosa che dobbiamo fare no ti sto semplicemente uccidendo a pedate no ma che dobbiamo fare e dobbiamo prendere un pulsante anzi secondo me si va qua tipo qua nell'acqua no ma si va qua nell'acqua non devi trovare tipo un pulsante delle trasposti e sotto e dove lo prendiamo nell'acqua e no ci sono già andato dobbiamo suicidarci no 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 secondo me tipo si fa così guarda si fa il big parkour parkour no non credo si vedi qua c'è un pulsante oddio che spavento ok ok allora che cos'è che chiede chiede in pratica cosa non è generato nel mondo e deve essere creata il pistone no e che cazzo e poi è scusa hai ragione hai ragione veramente il pistone non aspettando che a questa cosa voglio far leggere a scorpio non vai scorti non leggi vai no allora mi regioni nel mondo strutture e cazzi vari no aspetta che stai dicendo come di questo non è un bioma penso montagna no 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 aspetta spazio stanno notificate quali di questi non è un bioma di minecraft no quale quale hai premuto ci ho provato e poi adesso non capisce l'inglese allora adeguato inservene appena piazza fiume ma questo micrassano fu e ciò che i due occhi non si sia scuola di questo più alto la peonia e no 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 io penso che è la cipolla oddio sono un genio sono un genio basta vai anche buono e non si usi gravi di which of this mobs cannot be art b farling quali così non si può sentire credo sia io penso ma perché non golem perché non subisce danno da perché non lo subisce perché è vero dai drop ma che c'entra sono d'accordo non lo so forse venti ai blocchi non è adesso lega adesso adesso vi insegno qua come che si invece va sì no che per fare no ma è questa 22 22 che genio non è bene 24 20 l'ha fatta 22 22 sto non smettino di caricare se fuori di te e due mesi che lagga anche i fermo non di risparmi usano il jukebox si usa il jukebox con massa sito da unicina o dio completamente a caso completamente a caso allora 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 la vai con noi ci sono anche la nota in cui del blog io l'enzo ma where to full 3 si è l'unico e tre vai vai e non te lo spero anche perché aiuto questo adesso di seguire il percorso di redson io credo che siano dei piedi che dico sotto qua però va bene vati no guarda raga indovino io guarda ma quello dei primi ma che problemi ai problemi ancora a me sconosciuti di vero adrego voce penso io a dalla risposta non puoi pensare come dire che c'è zico e a mettere risposte sono rimasto non di serie guarda questa quattro mescolato due euro vedi non ho preso anch'io non ho presa prima io mi dispiace oddio stavo trattando graffi non le sai è ornare il suo a vento fuori o mini a rovinia rovin 2 4 4 4 raga ma che cazzo sta succedendo there are many different life sources micrart which of this is the breakfast stai fermo non fare minchiate no o bella o bella ce la faccio io la gioia come al solito ciali lagga ma quando mai scordi raggi è stupido di stai lanciando lì io vanno charlie lagga che è questa è quella che porta in nuova stanza e dobbiamo fare la versione dobbiamo fare una pozione raga no che possiamo che dobbiamo creare la mozione grazie ai dobbiamo creare visto vecchi che la scuola da questo quanto che adesso la città d'acqua riavola acqua si va bene che siamo crepati a letteralmente quindi ciao in poche parole in questa domanda di chiede quali di questi item non si possono muovere con il pistone e allora noi più noi abbiamo già messo crafty table lo sai che penso che sia questa quale allora sei stupido quella di prima il delay sensor non è vero sicuramente io penso aspetta me la fate leggere che ancora non l'ho letta io ma che sta roba scusate ma sto mangiando non capisco perché io finalmente ho smesso di laggare esplodere sto per esplodere io 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 non lo sa ma sei retiro vieni qua ok ragazzi leggiamo la domanda allora guapo sicuramente a questo no ma dai vuoi aiuto mi sta girando la testa mi sta girando la testa che cosa e sta facendo c'è un creeper è un papiro che cazzo è roba è un papiro ma che dice si lo so sto buona prendo in francese manca un reo dal periodo together to live empty dato che c'è una voglia di leggerli e charlie dice tnt nooo non era dnt ma dove cazzo sto adesso la dnt la dnt la dnt addio uuuu cattus non diciamo che sta eragando un po parecchi quindi sono problemi delle comunicazioni mi faccio male occupate tutto tutto beh allora per forza anima connessione è vero scoppio non ti sento a scatti era mai c'è da sun state in grida e nord e il sì qui c'è di scuoli video è scelta i sistemi non the top of center io lo so regalo lo so io e che parese che sia questo è ovvio mancava smegna che ho metto che sia un'idea che sia un'idea banchini palisi abbiamo ok ce l'abbiamo fatta ho vinto una minchia c'hanno per il computer o era giusti hanno letteralmente pigliato bere il culo ragazzi dove mi chiascora le borale vedevvina più nei cagli ma per capire bimboi sicuramente di sicuro si chiamava beast boy no raga ma scusate ma state scherzando scopera spessi la gara e sto lagando io state un attimo fermi allora adesso inizia a pescare tutti voi non avanti allora vedete che sto lagando a bestia non sei la puntata fidati si no non è vero adesso no adesso no ok adesso non dire perché mai lo si può sapere ma chi si può sapere che minchia dobbiamo fare non neanche cazzo io mascio la canata pescavosti io ho una tecnica più intelligente non si può fare se non l'avrei già far fare questo tasto scommettiamo la caglia a mettere fingimi scoppio spingimila dentro no adesso appena oggi a dobbiamo buttarci black steve e la risposta è la risposta è stata ha vinto un miglior no ma allora sei che sai ma potete di nuovo riprendere beast boy calmi e allora è di sicuramente no chi è andato su rana 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 e quella vestita da rana ma non avete mai visto un video su minecraft allora vai ma di sicuro per l'aria è il più che cosa io sono 3 risultante vai vai c'è un pulsato se si è chiuso dice un pulsante che succede lol lol che sono ragazzi si stanno cagliato che cosa c'è 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 minuti non vuole buon che a me non far rompere la merda perché sei nato per rompere l'altro tipo di roba e oltre dato che charlie la solita sfigata in questo punto il video si è interrotto perché la mia memoria era piena dato che fraps mi fai video di 60 gigabyte non sto esagerando sul serio un video mi pesa intorno ai 60 gigabyte non ho potuto registrare la fine del video quindi se volete vederlo andate nei canali di drago terra scorpio anche trovate nella descrizione potete vedere come finisce il video e mi dispiace anche per i problemi di lag che abbiamo avuto in questo video ma purtroppo la mia connessione fa veramente cagare detto questo spero che il video vi sia piaciuto lasciate tanti like lasciate tanti commenti per farmi sapere se questa serie vi piace e noi ci vediamo in un prossimo video a tutti ragazzi